La mia cognata ha detto che il vagone è carino, lo scompartimento, perché era una prima declassata. Mi sembra una persona, c'è un sacerdote e aveva la fidanzata e voleva andare a scappare. Io avevo un impermeabile con due bottoni, uno piccolo da sotto che teneva. Ha detto, ah signorina ma non sa che il bottone è di sotto? No, tu hai tirato il filo e il bottone è caduto. Signorina ma non sa che il bottone è di sotto? Tiene quello di sopra, come mai? Ha detto, vabbè non sono molto esperto. Stacca il bottone e attacca il bottone? Ha cominciato ad attaccare il bottone, ma che fa? Dove è? Che facoltà fa? Ma lavora anche? Che lavoro fa? Dove è? Insomma, ha toccato il bottone. 29.3 Ciao Ma schiaccio Da questo posto di vista dove dunque andiamo più lento Fitto dove fa tutto il ciclo Ormai c'è la memoria Con il bottone è tuo, sono nate tre bambini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti